Benvenuti, ci troviamo in via Stefanino Moro, nella parte mediana della via. Proponiamo questo bell'appartamento completamente ristrutturato in tutte le sue parti. Abbiamo questo raffinato parquet, color miele, la porta è blindata, il riscaldamento è centralizzato. L'appartamento, come si può vedere, è stato integralmente ristrutturato. C'è l'aria condizionata e alcune tapparelle sono anche già elettriche. L'appartamento viene venduto così come lo vedete, tranne alcuni pezzi su pelletti dell'attuale proprietaria. Quindi, qua abbiamo proprio un insieme di questa che è la zona living, quindi entriamo dalla porta e ci accoglie a questa bellissima zona living. Come vi dicevo, è un appartamento opposto ad un sesto piano, c'è l'ascensore. Usciamo dalla porta finestra, gli infissi sono di penultima generazione con i doppi vetri. L'esposizione è un nord-ovest. Qui abbiamo questo bellissimo balcone. Siamo immersi nel verde e nella tranquillità. Rientrando nell'appartamento, quindi qua abbiamo un altro dettaglio nell'insieme dell'appartamento. È una chicca questo appartamento, sicuramente, in tutte le sue parti. È ideale per una giovane coppia, un single, che vuole un appartamento che sia già pronto. Prendo le valigie e le porto in casa. E al limite gli do una mano di bianco. Qui abbiamo il bagno, che dire impeccabile, nelle sue parti. In fondo abbiamo la vasca. Anche qua in bagno abbiamo il parquet. E qui abbiamo l'unica camera da letto particolarmente generosa, di grandissime dimensioni. Abbiamo, è stata, diciamo, per sfruttare al meglio tutti gli spazi, è stata creata questa cabina armadio, molto carina, che viene sempre utile, ovviamente, per riporre gli indumenti, i nostri abiti. Qui un dettaglio nell'insieme ancora della camera da letto. Riusciamo, anche la camera da letto è dotata della seconda porta finestra, quindi qua ci siamo rimessi in maniera naturale a quello che è il balcone. La zona è veramente silenziosa e tranquilla. Quindi, facendo un reperlogo veloce, Allora, qui l'unica camera da letto ampia, con la cabina armadio. Alla nostra sinistra abbiamo il bagno, che dire, impeccabile. Ed infine terminiamo la visita dove avevamo iniziato, dalla cucina, dalla zona living. Ci troviamo in via Stefanino Moro, 84.